La gente a Bruxelles sono forti e gentili, perciò è a conoscenza di quello lì, ma sono brave persone, sia gli emigrati che anche i loro figli, si danno da fare, sono industriali, hanno creato la città di Hamilton e lei è molto fiera di loro. La ricchezza che hanno portato gli emigranti è ben nota, riconosciuta e assolutamente il Canada non sarebbe il paese che adesso senza gli emigranti costruiscono, si danno da fare, sono istruiti, sono benvenuti.